Si accende la magia del Natale a Villa Guicciardini, domenica 8 dicembre per l'intera giornata in programma Mercatini di Natale con ben 33 espositori locali, stand artigianali e di prodotti enogastronomici, animazione, street food, spettacoli musicali e laboratori per bambini dalle 16 alle 18 con l'artista Francesca Bernini. Anche quest'anno rinnoviamo l'appuntamento con i mercatini di Natale, il giorno 8 dicembre dalla mattina troverete appunto cancelle aperti di Villa Guicciardini per una giornata natalizia che passeremo insieme. Ancora una volta festeggiamo l'arrivo del Natale, l'arrivo delle feste in questa splendida Villa Guicciardini, non finiremo mai di ringraziare la proprietà per concederci gratuitamente questi spazi e per condividere con noi questa iniziativa aperta a tutta la cittadinanza con una finalità che è quella della solidarietà. Noi cerchiamo, già come abbiamo fatto con il progetto di 2500 buoni motivi, rinunciando alle luminarie per il nostro comune, ecco cerchiamo di sostenere davvero le persone maggiormente in difficoltà in modo da poter permettere anche a loro di passare un Natale di festa e di giocare come tutti quanti gli altri. Tante iniziative a ingresso libero per adulti e bambini realizzate in collaborazione con il comune di Cantagallo e il coinvolgimento di molte associazioni del territorio. Si parte alle ore 10 con la colazione in villa, alle 11.30 il laboratorio dei biscotti di Natale per i più piccoli e alle 15.30 il magico laboratorio degli Elfi. Ad aprire il pomeriggio il concerto è la sfilata del gruppo Maggiorette della Filarmonica Verdi di Luciana e ancora la Magica Bull Street Band che si esibirà a più riprese percorrendo il palco. Infine per gli appassionati di giochi da tavolo dalle 15 alle 19 una ludoteca speciale animata dall'associazione Ludissea 42. Ci avviciniamo al Natale davvero con tutta la comunità che partecipa all'evento dell'8 dicembre, l'evento più atteso delle feste natalizie. Avremo tutte le associazioni del territorio, esercenti locali, stand gastronomici per vivere una giornata in serenità e scambiarci gli auguri di Natale.